Condannati in primo grado dal Tribunale di Firenze 17 anarchici che erano imputati di aver messo in atto proteste non autorizzate, in concomitanza di alcune odienze del processo di primo grado per il ferimento dell'artificiere della polizia Mario Vece, investito la notte di Capodanno 2018 dall'esplosione di un ordigno davanti ad una libreria riconducibile a Casa Pound nel capoluogo toscano, altri otto imputati sono stati assolti. Le pene più alte, una a tre anni e una a due anni e quattro mesi, sono state inflitte a due militanti di area anarchica accusati tra l'altro di essere gli autori di scritte contro l'artificiere. Entrambi sono stati anche condannati a pagare una provvisionale a titolo di risarcimento danni di 10.000 euro ciascuno a favore di Vece, costituitosi parte civile. Un terzo militante è stato condannato ad un anno e un mese. Le altre pene inflitte vanno da un mese e dieci giorni a due mesi di arresto. Tra le accuse contestate a vario titolo, quelle di diffamazione e stigazione a delinquere. Oltraggio a pubblico ufficiale e imbrattamento.